Un rapporto di collaborazione con il Comune di Mesagne per la realizzazione di un importante laboratorio di antropologia. Allora, questa ipotesi di un laboratorio di antropologia si pone al termine di un'esperienza di cooperazione, di collaborazione tra il mio dipartimento, l'Università del Salento e il Comune di Mesagne. Devo spendere qualche parola su questo rapporto di collaborazione che è stato un rapporto molto proficuo e che è durato, si sviluppa da diversi anni. E non è così consueto che l'Università e gli enti locali dialoghino. Qui c'è stata una disponibilità nostra ovviamente, ma c'è stata anche una grande disponibilità del Comune che ha consentito questa collaborazione. Questo laboratorio quindi è alla fine di questo percorso, noi abbiamo sottoscritto questa ipotesi di lavoro e è aperto un campo di indagine, non solo di indagine, ma anche di preparazione professionale che può essere molto ampio. Naturalmente perché tutto si sviluppa e si sviluppa con successo è necessario che questa cooperazione continui a funzionare anche per il futuro. Perché l'antropologia non è solo il recupero delle tradizioni locali, ma anche definizioni, una serie di profili, perché gli antropologi ormai sono negli ospedali a curare i rapporti tra operatori e pazienti in modo da renderli più fluidi, non creare quella contrapposizione tra pazienti e operatori della sanità, ma non solo questo, nel campo dei flussi migratori, perché continuano a gestire, ad operare come operatori in quel versante. E poi una serie di altri settori che è utile cominciare a conoscere. Poi ovviamente se c'è un rapporto tra le giovani generazioni, cioè le scuole sostanzialmente, e queste esperienze, io credo che si possono definire anche profili professionali interessanti e che possano avere sbocchi sul mercato del lavoro. Professore, quali sono gli obiettivi e in che cosa consiste l'attività di questo laboratorio di antropologia sociale e dell'educazione? Allora, l'Università del Salento è da sempre molto attiva su tutto il territorio, sia in provincia di Lecce che in provincia di Brindisi, infatti finanno molto tempo fa vi era anche una sede brindisina dell'Ateneo, appunto del Salento. Con il Comune di Mesagne siamo riusciti a varare un programma comune che è di ricerca, ma soprattutto di formazione, e anche di costruzione di un dialogo fra i giovani e le istituzioni. Questo è quello che siamo riusciti a realizzare. Il laboratorio si propone, fra le varie iniziative, quella di coordinare un po' le attività dei giovani in uscita dal liceo oppure in uscita dal mondo universitario, in questo lungo processo che è di ingresso nel mondo del lavoro, anche il laboratorio giocherà un ruolo, cioè di formazione continua, di aggiornamento, di realizzazione di programmi di ricerca, tutti rivolti a realizzare attività che interessano il territorio e la riqualificazione anche di attività territoriali. Per esempio ci muoveremo appunto con il visuale e costruiremo documentari, documenti, documentazioni che riguardano le attività nella nostra terra, qui a Mesagne, che è anche la memoria storica, oppure ci occuperemo dei programmi sociali che verranno discussi anche all'interno dei licei, che ne so, processi migratori, oppure il rapporto che c'è fra una città come Mesagne e l'estero, oppure la complessità nazionale, i grandi temi che interessano l'Europa intera, i temi del lavoro. Ci muoveremo su diverse linee di ricerca e di formazione dei giovani. Quindi può essere un momento propositivo per quanto riguarda l'attività lavorativa di questi giovani o si ferma solamente a essere i laboratori in sé per sé? No, è un laboratorio innanzitutto di ricerca, poi è un laboratorio dove ci si forma. In questo senso può essere una preparazione a quelle che sono attività future di lavoro. L'ingresso nel mondo del lavoro, sappiamo tutti che è estremamente complesso, complicato, è un percorso irto di ogni genere di difficoltà, ma aumentare i livelli di preparazione sicuramente non fa danno a questo processo di ingresso nel mondo del lavoro. Quanto più si acquisiscono competenze di vario genere, anche l'arte di scrivere un curriculum vite, non è cosa da poco, anche nella ricerca di un lavoro. Faremo queste cose, non siamo un'agenzia interinale evidentemente, quindi da questo punto di vista no. Però intendiamo muoverci molto sul territorio, addentrarci nei temi del territorio e fare in modo che tutti i giovani che faranno parte di questo esperimento, di questo laboratorio avranno qualche chance in più di muoversi nella nostra società così complessa e così difficile.